Un lavoro complesso che parte appunto e dura anni e segue il diverso, chiamiamolo così, perché è venuto fuori adesso negli ultimi anni poi questa evidenziazione di questo fenomeno che però c'è sempre stato. Lei giustamente ha detto adesso è emerso. Il fenomeno c'è sempre stato, i bambini con autismo ci sono sempre stati. Quindi quello che adesso è cambiato probabilmente è la sensibilità del contesto di vita e anche se vogliamo dei servizi e degli operatori che lavorano nei servizi. E certamente è cambiata anche l'atteggiamento degli operatori dei servizi per gli adulti che devono, stanno riconsiderando la loro posizione. Prima i soggetti con autismo al diciottesimo anno età sembravano sparire, e probabilmente perché veniva cambiata la diagnosi e poi finivano in modi diversi, in strutture diverse. Adesso la salute mentali adulti probabilmente si farà carico della maggior parte dei problemi. Di questa fascia. Bene, questo è un incontro che parla anche di scuola, che parla con gli operatori della scuola, ma che parla anche con i genitori, che parla con i familiari. Questo sì, questo è il primo di alcuni incontri che avremmo pensato sull'autismo, ma dedicato specificamente agli insegnanti, che rappresentano un tassello fondamentale della rete di sostegno ai bambini, ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. Un fondamentale contributo, un fondamentale appoggio a quello degli insegnanti e dei familiari. Sì, assolutamente sì. Noi puntiamo moltissimo sulla scuola, sulla famiglia, come elementi di grande aiuto anche a noi operatori. Noi operatori facciamo una fetta importante, l'impostazione diagnostica, il trattamento, come avviene anche al centro, come avviene in tutte le sezioni di unità funzionale di tutte e quattro le zone nell'area grossetana. Ma le famiglie sono fondamentali perché ci sono, come dire, nei nostri punti della cartina di tornasole rispetto a quelli che sono i progressi del bambino. E noi abbiamo il dovere di ascoltare prima di tutto le famiglie. Questo è un incontro importante, il primo di una serie di incontri che si rapporta proprio con gli operatori della scuola, che spesso non per cattiva volontà, ma non sono proprio all'oscuro di quelle che sono le tecniche di approccio, no? Sì, la scuola è importante, anche perché la comunità internazionale ormai indica 25 ore più o meno di trattamento per le persone con autismo. Nel servizio pubblico questo non può accadere, perché quella è la situazione delle risorse in Italia. E se calcoliamo che un bambino passa in media 20-25 ore a scuola, comincia la scuola a diventare importante per il percorso di crescita dei bambini. Quanti ne vedete di bambini autistici? C'è un aumento o un decremento di questa patologia? C'è un miglioramento delle criteri diagnostici, per cui si individuano meglio situazioni che fino a qualche anno fa non rientravano, o quantomeno i valutatori come noi, non li facevano rientrare nello spettro autistico. Sembra che però a livello internazionale ci dicono che le stime siano 1 su 100, 1 su 150. Quindi 1 su 150 bambini che sviluppa delle forme che possono essere individuabili all'interno dello spettro autistico. Magari anche leggere, però è importante quando un genitore o un insegnante ha il minimo dubbio di questo genere rivolgersi a un centro come il vostro. Sì, l'incontro di oggi è importante perché oltre a parlare di autismo, quello che comunemente abbiamo in mente come autismo, parleremo anche di quelle forme a medio-alto funzionamento, ossia bambini che hanno un buon cosciente intellettivo, un buon cosciente verbale, ma che comunque fanno parecchia fatica a livello relazionale, che rientrano comunque nello spettro autistico. Grazie. 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 Grazie.